ciao a tutti e benvenuti in gameplay è rimasto che la città del ridosso era stata attaccata dal duke del male tra cui abbiamo attaccato anche il genio e abbiamo salvato il primo abitante quindi proseguo allora vado a mangiare allora scorpione ok allora vediamo un po c'è la cosa che vuoi camice che colore che legata va bene non sembra cosa risolette mi sono quella sono le trattate diciamo il colore a 4.6 in più perché no anche lo sono così dai obblò che richiamo anche il 3d io voglio artigli di lana perché no che bellini però 6 punti di attacco per me assolutamente sì bene vado potenzio modelli lasciare dell'anno per scusa legate ma io questo percorso va completato andiamo che che tristezza dobbiamo fare di stare ancora ho mal di pancia lo dico anch'io l'hai lasciata con la capra in giù mi manca il mio oggetto pensavo la stessa cosa un attimo per favore salve mi chiamo il postino prodigioso ho una lettera per snake guarda ci pensa scommetto dove c'è una lettera buona lettura oh no caro snake permette tua march hai ritrovato tutta la sua energia anche troppo forse tua Kaori che paziente deve avere quella madre ora madre eh già questo Kaori mi manda ai vecchi cartoni hai abbastanza bene appunti salute meglio non diraggirla Kaori mi ha ricordato un avversario di di Mila in Mila e Shiro allora dai 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 ho avvitato ho avvitato sotto un'altra bene due succhi di cactus e uno scorpione più 40 moneta mi stanno venendo le riuscite e se tutto questo non fosse che un sogno un tesoro bene dai dai voglio un gatto assolutamente d'accordo dai gli sti nemici attacco che sveglia dai quando stico che faticaccio scotto e denaro cotto e non scottù ora sono solo molte piatto viola che sento un po e simulati alla locanda ma non è perfetta proprio va bene livello 14 profonda simpatia ma non mica due a metodo la proprietà di riuscita ed efficace non è veramente e adesso tu vai e girano qualcosa adesso non può pulisci qua pulisci la ragione sta facendo prezzi semmo bene ragazzi allora questo scopo l'ho fatto totalmente schifo ride e cucatotu piatti solo te e anche questo e no tu sei pieno e questo non fa schifo anche a me non mi è piaciuto anche ma si fa schifo tutti e perdono e vabbè ragazzi che ci devo fare non ci posso fare una nozzata l'odio di roulette hai vinto un premio è che la mostra si è fatto giorno bene vado per cambiare il tesoro andiamo sono una pata senza gruppo non posso dire che provo ma però mi vuoi molto bene io ho scelta ride però mega tesoro il contenuto di bilanci mese è appunto tre punti di difesa rosso ci sta molto bene bianco bianco si è il classico nero nero fa un ostacolo stra figo bianco classico rosa anche no blu bello faccio meno faccio meno perché fa figo bianco bello eh però passaggio il percorso è più breve un ricordo emozionale funzionante e per cosa è successo livello 10 vera simpatia e sacrificio questo balletto va troppo ridere subisci dare al posto una leata non per metà che ti tocchino va bene ottimo quindi proseguiamo e dai adesso vado in su e vediamolo un po andiamo ossia regge il massimo e dai che succede mi chiedo come ci si sente a farsi rubare il viso e così surreale ti viene prurito e l'espirale diventa porticoso e in più ci si annebili pensieri in fondo a una cosa di spiacevole è come andare sull'altra volante wow e tu come fai a sapere tutto questo appunto non lo so me lo stavo semplicemente immaginando si beh è ovvio mi manca il mio eccetto mi dice sul serio il rider salda come una capra però brava zilla wow yoshi mi piace quando il gel si invita quella posa per osservare l'azione dell'aleato perfetto due su qui di cactus e di 109 monete vorrei tanto un bel pasto caldo bella storia giusto risale caldo non stai amico minaccia no sembra vera di riposare un attimino auguri la cp la tua che dolore si è scelto sugli aghi capirle cosa sognuna scarpa devo essere migliore di joshua ma non manca per la metà strada da' dite di una ote ah! sbaglio fantastico direi che è fatta no un'altra casa avanti entriamo non mi sembrava ma se vediamo di qua voglio un cane già ecco che ricomincia un tesoro ma io non mi sembra le faccia che fanno ragazzi allora coppa falda non la conoscerai del gusto quindi non avrei piaciuto ovviamente invece per me è molto imitante poi questo giro è di brutto di piaciuto eccoci un altro perfetto e basta ve lo scoppiore per il suo item facciamo sassa carta forbice e l'attiva la partita sassa carta forbice sono pronto a regalare 500 monete che è un guerri scambato a me a me mi dico adesso che faccio la partita cosa stanno tagliando le ride quasi mi piace e forza preparati sto fottuto a me l'ho fatta come promessa ho accorto le compenze di 200 monete anche se di mi porta il nero dato per capitale non vuole fatta persone non potresti usare vici per tentare la sorte se vici nuovo continui ti aspetta me il bottino di 1000 monete che ne pensi una buona idea? si ho fottuto e 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 anche se di mi mantenete la propria capitale non vuole fatta pensare potete usare la leggera e diventare la sorte se vinciniamo continui e ti aspetta molti anni di 1000 monete e ne pensi a morire? si così mi piace forza le parti dai non ci posso sgridare ragazzi sei ho vinto che figata ragazzi uff me l'hai fatta ecco qui altre compenze di 1000 monete anche se di mi un po' andrebbe da capire la doppiare sì dai non direi che un colpaccio così da 3 è più che troppo capisco meglio un uovo oggi che una gallina domani eh d'accordo da prendere le compenze alla prossima alla prossima non c'è capito la strategia ragazzi eh 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 dai è tutta dai è tutta dai è tutta hai detto qualcosa eh mi è stato buon caso sto per colassare sono una cosa con te allora che sverga che sverga dai è tutta dai è tutta dai è tutta ragazzi vittoria ok tasso Kigaktos e 209 monete perfetto è ancora lontano da locanda su col morale su un lavoro già immagino non aspettavo altamis questo cattivo sversale ovviamente nonostante ma se io così ho giunti che ha largo cattiva la da giunti per il spazio per bello c'è questa è stata una mazzercola coppa a foglia 180 mm perfetto ho il naso chiuso non spiegare l'energia se si va giù ho il naso chiuso ancora non è possibile ok perfetto ormai li siamo quasi definite non voglio visitare la stanza di raggede va bene allora allora girò con sneaker e di una che parlarsi josh ha comprato regalo ho fatto compile se non ti va me lo tengo io josh ha fatto regalo al raid dici davvero wow non sto sognando vero di più tassai minchia si ha visto tutte anche le volle bene la rai del giro di josh del giro di josh allora questo 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 spero che si è pieno di scorpione è pieno di balle ok non ho sbagliato non gli piace perfetto basta non pensi tanto che anche agli altri quindi nada dai ancora delle ullette una banana dai le padelle sei natalata perché no non vai proprio quello che volevo hai metto un premio percibi un walk serve che una padella 5 punti in più di attacco e un punto di più di difesa dai molto bella anche decolata così bene si prosegue ragazzi vediamo un po' cosa c'è qua andiamo va tutto bene non pensi davvero che cosa è stato che cosa è stato ho sentito qualcosa fuori io già fuori io era una specie di prontorino basso e cupo che si tratta di un mostro prudenza so se sono io e che ho limitato di fare colazione oggi wow un'altra volta new bombs grazie vuole intanto un bel pasto caldo tutto bene allora attacco la piantina e sverghe abbiamo raggiunto superato se ci interesse salvati dai ragazzi è stato farsi far formire 166 monete bene non mi sento molto bene non è possibile ancora dopo 2 secondi allora allora sì 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 ho troppo ridere è una questione che c'è Yoshi oh ma che cazzo ma mi vuole male a Yoshi che faccio che faccio non è perciò no no ancora io bravo bella padellata dagli tutta è stato facile gesti livello 2 punti salute 3 punti magia 2 velocità 2 magia un attacco raiden 3 punti salute 2 punti magia 1 velocità 1 difesa 1 magia 1 attacco super cactus raro e 284 molette bene ma lallao sempre ci sono prima che succede e io si tiene parte io ci manrono camera punti magia questo passetto è molto molto figo eh quanto è verità oh però questo no minchia minchia ragazzi è un bel cobra all'interno orcocan abbiamo due forza ragazzi vaie questo è parello Yoshi forza ragazzi oh mio Dio oh mio Dio mmm mettiamo il giugno bravo l'altro vado ma il giugno il giugno buongiorno Vai, vai, dai, buavissime, vai, giro, bravissima. Dio, boh, ehm, da dire. Guarda che c'è la prima premuta, va, finché non si smette bene. Ehm, tutto qua, non è che sei morto o mai. Però cazzo. Dai, abbiamo salvato la nostra amicoaglino. Io qui. Anche io e Yoshi siamo in simbiosi. Anche io qui. Abilità drenamagia. Assobre l'ergia mentale di un nemico trasformato in punto magia. Ragazzi. 10-22 punti di magia. Ma chi? Vai, Yoshi. Copa fritta, copa fritta. Raro, oro più. 160 volette. E in taglia. Fantastico ragazzi. Aggiungi il level 10 per la classe cuoco. Aia. raggiungeva la 10 per la classe gatto raggiungeva la 10 per la classe diavoletto raggiungeva la 10 per la classe scienziato è salvato a 600 habitanti in mitopio che tra ora dove grazie poter vivere per appunti soliti più potente la capacità della pepiera passa dal 120 140 pepiera punti immagina più potente passate da 5 50 la gratitudine di chi è salvato aumentato il tuo potere in termini tappi ti considero un faro di speranza nella notte ora continui a fare partire i bisogni di mostri ah ho tenuto questa ricompensa se c'erci un peso ora ti affari fantastico ragazzi meno allora questo non lo mangio io il brutto questo se lo mangio io non mi è garbato questa gilla fatto la raga non piace questo e nemmeno questo era l'epoca tipo di strada un gioco da darti faccio un sesso carta forbice l'ho fatto tutto fantastico certo l'ho fatto non capisco come fa fotte mille volte se è una stronzata ma la forza è giro sto giro dopo tutto e poi provo a fare va bene to fottuto non c'è male no esatto eh eh bene ragazzi questo è un play show qui spero sia piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti